Musica Secondo il bollettino di oggi sui casi di coronavirus in Italia diminuiscono i contagi per il terzo giorno consecutivo, aumentano i gueriti ma anche i decessi. In Sicilia 118 casi in più rispetto a ieri, 7 le persone morte nelle ultime 24 ore. A Paternò primo caso di Covid-19, in città restano tante, troppe le auto in strada, occorrono più controlli. Il sindaco Nino Naso interviene dopo il primo caso registrato a Paternò e i cittadini chiede di restare a casa. In merito all'emergenza Covid-19, i nostri microfoni, l'onorevole Gaetano Galbagno ha voluto intervenire facendo il punto dell'attuale situazione in Sicilia, partendo da Messina fino ad arrivare a Paternò. C'è preoccupazione anche in provincia di Enna per l'aumento dei contagi. Blindato il territorio comunale di Egira è dichiarato zona rossa. Apprensione anche a Troina, dove si teme che possa aumentare il numero dei soggetti positivi. A riguardo abbiamo sentito il sindaco di Troina, Fabio Venezia. E di fondamentale importanza donare sangue, per questo motivo abbiamo documentato nel rispetto delle regole tutta la fase di donazione. E di donazione ci parlano il presidente del gruppo Donatori Volontari di Sangue di Paternò, Filippo Castro, il dottore Salvo Platania, primario del reparto. A Motta Sant'Anastasia, una ex badante, avrebbe chiesto aiuto alla sorella e al cognato per estorcere del denaro al nipote della signora per la quale aveva lavorato, ad essere preteso il pagamento della tredicesima. Buonasera e benvenuti a questa nostra consueta edizione del telegiornale. Secondo il bollettino di oggi per i casi di coronavirus in Italia, diminuiscono i contagi per il terzo giorno consecutivo, aumentano i guariti ma anche i decessi. In Sicilia 118 casi in più rispetto a ieri, 7 le persone morte nelle ultime 24 ore. I dettagli nel primo dei nostri servizi. Diminuiscono per il terzo giorno consecutivo i contagi ma oggi è aumentato rispetto a ieri il numero dei decessi. Il nuovo bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia, diramato dalla Protezione Civile Nazionale, ha detto che nelle ultime 24 ore sono morte 743 persone, 142 in più rispetto a ieri. Aumentati anche i guariti, 804, ieri erano 408, dunque un più 396. I contagi in più rispetto alla giornata di ieri sono 3612, ieri erano 3780. Complessivamente sono guarite 8.326 persone, 6.820 le persone morte con l'Italia che resta il peso al mondo con il più alto numero di decessi. Attualmente le persone positive al covid-19 sono 54.030, 21.937 le persone ricoverate in ospedale, 3.393 in terapia intensiva, dunque il 6%. 28.697 in isolamento domiciliare, 69.176 le persone che hanno contratto il virus tra positivi guariti e decessi, 296.964 i tamponi effettuati. La Lombardia, la regione più colpita, anche se i casi sono leggermente diminuiti rispetto a ieri. In Sicilia, rispetto alla giornata di ieri, si registrano 118 casi in più, ma la metà dei nuovi casi positivi riguardano il focolaio di Villafrati, nel Palermitano, dove risultano positive 69 persone in una casa di riposo, 799 le persone attualmente positive al covid-19 nell'isola, 327 ricoverati, 67 in terapia intensiva, 7 in più rispetto a ieri, 462 le persone in isolamento domiciliare, 27 i guariti, 20 i decessi, 7 in più nelle ultime 24 ore. La provincia di Catania registra 272 casi e resta quella con più positivi al covid-19 nell'isola. L'incremento, però, rispetto a ieri, è stato solamente di 9 casi, dunque un aumento molto contenuto, 7.170, infine i tamponi validati dai lavoratori regionali. A Paternò primo caso di covid-19 in città, restano tante e troppe le auto in strada, occorrono più controlli. A Paternò primo caso di covid-19. Si tratta di un impiegato già da alcuni giorni a casa. L'uomo è stato portato in ospedale con evidenti difficoltà respiratorie. L'intera famiglia è stata sottoposta in quarantena, anche per loro verrà effettuato il tampone. Contattate anche le persone che nelle ultime settimane hanno avuto contatti con il nucleo familiare. Ed in città da ieri mattina ci sono in circolazione molti più mezzi rispetto alla scorsa settimana. In una città poco abituata ai controlli e al rispetto delle regole, l'assenza costante, quasi ossessiva, di attività delle forze dell'ordine fa emergere il lato negativo, il non rispetto per principio. Le immagini che vedete sono state girate questa mattina in più punti della città. La sensazione che si ha è che restano troppi i mezzi per strada. E crescono i numeri di contagiati anche nei comuni del comprensorio. A Belpasso sono saliti a sette. A Motta Santa Anastasia si registrano i primi due contagi. In questo clima si guarda la preparazione della sanità del territorio. I deputati regionali di Fratelli d'Italia, Gaetano Galvagno e Delvira Amata, hanno presentato una mozione all'Ars dove si chiede per gli ospedali di Paternò e Giarre attrezzature per il pronto soccorso e il Covid Hospital. Intanto in ospedale a Paternò la direzione medica si è adoperata per creare un settore Covid-19. È stato chiuso al momento il reparto di Otorino Laringoiatria alla luce del fatto che in ospedale in questo momento è sospesa l'attività ambulatoriale e si possono effettuare solo interventi chirurgici urgenti. E il sindaco di Paternò, Nino Naso, interviene dopo il primo caso registrato a Paternò e cittadini chiede di restare a casa. Sindaco, a Paternò, primo caso di Covid-19, come ha reagito la città? C'è paura, ma sicuramente qualcuno pensava che era lontano. L'abbiamo detto, l'ho detto in mille lingue, in tutti i modi, gridando forte. È un virus invisibile che colpisce senza che tu nemmeno te ne accorgi. Ed è pericolosissimo. Io ho fatto gli auguri al nostro concittadino, mi dicono che sta bene e spero che presto si rimetterà. Però chiamo tutti alla responsabilità. Il virus si colpisce solo se c'è il contatto. Quindi, qual è la medicina? Lo ripeto e non mi stancherò mai di dirlo. Stare a casa. Noi ci siamo attivati. Già mi sono sentito con i nostri uffici, con i nostri vigili, con tutti, perché per attivare il COC, che è il centro operativo comunale, perché in questi casi si deve attivare. Ci stiamo continuando ad attrezzare per tutto quanto, per mettere in sicurezza tutti quanti e per andare avanti con le azioni che vanno fatte. Sindaco, in città, le volevo dire anche questo, in città da ieri sembra che ci sia molta più gente per strada, sia ieri che oggi. Come mai? Che cosa pensa stia accadendo? E poi, insomma, anche i controlli forse ci sono un po' allentati? No, i controlli non si sono allentati per niente. Le forze dell'ordine sono quelle che sono, quelle che abbiamo e c'è un grande sforzo da parte di tutti. Non è che è finito sabato e domenica e la gente si è convinta. Questo, uscendo ieri, andando al comune dove ho dato ulteriore disposizione, ho visto che c'era un po' di movimenti in più. Questa è come una guerra che noi non vediamo. È una guerra invisibile. Io ho chiesto anche, ho mandato una lettera a Sua Eccellenza il Prefetto per vedere se ci può arrivare, possono mandare anche qui i soldati, perché possono aiutare, ecco, l'esercito può aiutare nelle attività, le nostre forze dell'ordine, i nostri carabinieri, la finanza, la polizia e i nostri vigili urbani che veramente si stanno spendendo. Io ieri ho mandato ulteriori controlli, stanno controllando tutti quanti le attività commerciali, li ho rimandati nei call center. Ecco, stanno veramente lavorando senza risparmiarsi. Ma ci vuole la collaborazione dei cittadini. Io registro oggi che è venuto un istituto di vigilanza che ha dato la disponibilità, l'abbiamo anche deliberato, per fare una sorveglianza gratuita nelle ore notturne, che sapete che c'è stato qualche imbecille scalmanato che ha danneggiato qualche auto e qualche altro atto vandalico. Vedo questa generosità da parte della gente, ma io li chiamo sempre al grande senso di responsabilità. Noi ce la stiamo mettendo veramente tutta, ma vogliamo? Ma chiediamo? Ma ci deve essere? Perché c'è tolleranza zero. La collaborazione da parte di tutti i cittadini diventa fondamentale. Avete visto? È arrivato. L'altro giorno l'abbiamo registrato a bel passo, ne è arrivato uno da uno, sono diventati sette. Ma questo, ecco, il virus cerca contatti, cerca corpi umani. E noi li dobbiamo fare trovare, dobbiamo essere più bravi, più furbi e più intelligenti. Dobbiamo rimanere a casa. Mi chiamano persone che vorrebbero l'autorizzazione per cose futili. Lasciate perdere, non si deve uscire fuori. E quando si esce, anche per fare la spesa, cercate di organizzarvi quando si esce, per stare in poco tempo e da soli uscite. Non è una scampagnata ingomitiva. E il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, pomeriggio nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Chigi per illustrare il nuovo decreto, ha dichiarato quanto segue. Si è sparsa la voce che l'emergenza coronavirus sia stata prorogata fino al 31 luglio 2020. Nulla di vero, assolutamente no. A fine gennaio, ha specificato Conte, abbiamo deliberato lo stato di emergenza nazionale. L'emergenza è stata dichiarata fino al 31 luglio. Non significa che le misure restrittive saranno prorogate fino al 31 luglio. Si tratta solo di spazio teorico, ma ho fiducia che tutto finisca prima. In merito alle regioni, Conte ha inoltre dichiarato abbiamo regolamentato in modo lineare i rapporti tra gli interventi del Governo e le Regioni. I presidenti delle Regioni e delle province autonome possono adottare misure più severe in caso di necessità. Ovviamente rimane la funzione di coordinamento da parte del Governo. La competenza sulle misure restrittive deve essere dello Stato. Gli alimentari saranno sempre garantiti, vale anche per i carburanti, sarà assicurato il rifornimento. La multa per chi viola le regole anticontagio salirà da 400 a 3.000 euro. In merito all'emergenza Covid-19, i nostri microfoni, l'Onorevole Gaetano Galvagno, ha voluto intervenire facendo il punto dell'attuale situazione in Sicilia, partendo da Messina e arrivando fino a Paternò. Sentiamo. Siamo in collegamento telefonico con l'Onorevole Gaetano Galvagno per fare un po' il quadro generale di quella che è la gestione di questa emergenza coronavirus. Onorevole, facciamo un po' il punto della situazione, partiamo da quella che è l'emergenza gestita a Messina per poi arrivare invece a quella che è la situazione che vede Paternò gestire questa situazione di difficoltà. Buonasera a tutti, grazie per questo intervento. Sulla questione di Messina sono stato tra i primi a segnalare lo sfogo dell'amico sindaco Catenò De Luca su Facebook. Con lui, insieme al collega Danilo Logiudice, mio amico personale e collega deputato di Santa Teresa di Riva, ci siamo sentiti a più riprese per cercare di monitorare il flusso inaccettabile che c'è stato a discadito di tutte le persone che in questo momento stanno barricate a casa. Io faccio un semplice ragionamento partendo dal fatto che a Roma non si può pensare minimamente di fare prima una conferenza stampa e poi firmare un decreto. Non si può pensare di mettere in ginocchio le prefetture e le forze dell'ordine. Quando si scrive un decreto si deve pensare agli effetti che produce e come metterlo in atto. Io ieri non le nascondo che sarei potuto andare tranquillamente a Messina e stare fisicamente accanto al sindaco, possibilmente prendere qualche like in più, ma ho preferito rimanere responsabilmente a casa e fare passare il messaggio che tutti dobbiamo rispettare questa ordinanza. Bisogna rimanere a casa, denunciamo se c'è qualcuno fuori, facciamo gioco di squadra, aiutiamo tra l'altro il nostro sindaco che molto si sta spedendo per cercare di sensibilizzare i nostri concittadini. Onorevole, per quello che riguarda il settore della sanità, un suo intervento fa riferimento a quella che è l'attuale situazione vissuta all'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò. Sì, per quanto concerne l'articolo di oggi sull'ospedale Santissimo Salvatore, dico che dopo quello che è successo giusto ieri con il primo caso di coronavirus a Paternò, dobbiamo cercare di prepararci a tutto. Perché se questo soggetto l'ha contratto, io faccio gli auguri chiaramente a questo signore e gli auguro una pronta guarigione, però dobbiamo pensare che probabilmente lo potranno contrarre anche altre persone. E siccome io credo che il periodo di farci passare tutto sotto il naso sia finito, se si dovranno predisporre delle risorse, se si dovranno fare degli investimenti, che lo si faccia nel nostro territorio. Diciamo che siamo in emergenza, oppure è solo uno slogan, siamo in emergenza. E se siamo in emergenza si dovrà fare, e se si dovrà fare una terapia intensiva o se si devono investire in genti risorse, io credo che l'ospedale di Paternò ha delle zone che in questo momento sono inagibili, ma con i giusti accorgimenti, attivando tutti per poterlo riqualificare, io credo che l'ospedale di Paternò possa essere sicuramente di supporto e non in contrasto, perché noi non siamo per il campanilismo, non vogliamo assolutamente creare questo genere di competizione o di odio negli altri ospedali vicini, o può essere di supporto all'ospedale di Biancavilli. Quindi siccome noi abbiamo la possibilità, io mi auguro di no, attenzione, mi auguro che questo momento finirà quanto prima e che non ci sarà assolutamente bisogno, ma dopo quello che sta accadendo, io credo che dobbiamo prepararci necessariamente a tutti. Io vorrei fare, concludo dicendo che vorrei fare un ringraziamento veramente a tutte le persone che stanno lavorando quotidianamente e mi rivolgo non soltanto ai medici, gli infermieri, gli ossigliosa, ma a tutti, alle cassiere dei supermercati, a coloro i quali sono costretti a rimanere a casa, ma a lavorare. Quindi faccio un ringraziamento perché mettono a rischio la propria vita e quindi veramente grazie di cuore per quello che stanno facendo. Ci auguriamo di poter predisporre quanto prima le mascherine in tutti gli ospedali, sono a stretto contatto con moltissimi medici che ce le chiedono. Abbiamo chiesto anche alla regione di occuparsi delle mascherine, non quelle sanitarie, ma quelle che potremmo utilizzare noi e chiamare di fortuna e lo abbiamo fatto con una proposta che possa aiutare le imprese siciliane. Grazie per la telefonata e per la vostra attenzione. Incontro questa mattina al comune di Belpasso tra il sindaco Daniele Motta e il deputato regionale Giuseppe Zitelli, l'assessore Moreno Pecorino e il presidente dell'ACOSET Diego di Gloria. Si è fatto il punto della situazione alla luce della richiesta del sindaco Motta di non attivare distacchi in questo difficile momento. Il presidente di Gloria ha accolto la richiesta e dalla riunione di oggi si è deciso che anche i ritardi nei pagamenti non saranno aggravati di alcuna spesa. L'acqua è un bene primario, evidenziano dall'amministrazione comunale e continueremo a garantirlo. C'è preoccupazione anche in provincia di Enna per l'aumento dei contagi. Blindato il territorio comunale di Agira ha dichiarato zona rossa. Apprensione anche a Troina, dove si teme possa aumentare il numero dei soggetti positivi. A riguardo abbiamo sentito il sindaco di Troina, Fabio Venezia. Preoccupa la diffusione del contagio anche in provincia di Enna. Apprensione soprattutto ad Agira a causa dell'aumento dei casi positivi. Da oggi il piccolo centro inese è stato dichiarato zona rossa. Pertanto fino al 15 aprile ci sarà il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale. E' da queste parti da segnalare che è stato ricoverato in ospedale il sindaco di Cerami, Silvestro Chiovetta. Dopo aver avvertito un malore è stato sottoposto a tampone. E c'è preoccupazione anche a Troina dopo i casi positivi registrati all'Istituto Oasi Maria Santissima. Al riguardo abbiamo sentito il sindaco di Troina, Fabio Venezia. Al telefono abbiamo il sindaco di Troina. Il sindaco ci dice com'è la situazione allora nel suo paese? Le notizie che abbiamo è attualmente che ci sono oltre ai primi 5 casi riscontrati la settimana scorsa o superiori 4 casi ma diciamo subito che purtroppo la cifra è destinata ad aumentare nelle prossime ore. Man mano che arriveranno i risultati si stanno mettendo in campo tutte le azioni che umanamente è possibile fare con la nostra protezione civile. Noi stiamo lavorando per garantire i servizi abbiamo requisito un hotel per mettere in isolamento i dipendenti più esposti in modo tale che non si entrano a casa e mettono in pericolo i propri cari e l'intera comunità. E proprio ieri pomeriggio il presidente della regione ha nominato un commissario di supporto all'attività di emergenza dentro l'Oasi. sindaco è in contatto con il suo collega di Agira sappiamo che questo paese è stato definito zona rossa insomma fra voi sindaci quali azioni state intraprendendo per tutelare i vostri cittadini nella vostra zona? Ecco noi siamo in contatto tra di noi ecco ci consultiamo ci consigliamo per le azioni da prendere anche insieme la collega sindaco di Agira Maria Greco sta gestendo anche lei come me una situazione parecchio difficile in quel comune fino a ieri c'erano nove casi ma purtroppo tre morti e quindi ovviamente è una situazione non facile dal punto di vista della gestione dell'emergenza tant'è che ieri pomeriggio il presidente Musume ci ha dichiarato Agira insieme a Salemi zona rossa quello che si evidenzia è che purtroppo iniziano a scarseggiare i dispositivi di protezione iniziano a scarseggiare le materie prime per la gestione dell'emergenza manca alcol mancano disinfettanti mancano presidie tutto questo ovviamente non ci fa ben pensare per i prossimi giorni e le prossime settimane quando si prevede possa arrivare il picco in Sicilia e cioè a metà prima Per concludere cosa possiamo dire dell'oasi di Troina? si sta lavorando con grande impegno il commissario il dottore Giuseppe Murolo è già a lavoro con l'equip scientifica dell'oasi la direzione sanitaria sia io che l'amministrazione e la protezione civile siamo a supporto del dottore Murolo in questo delicatissimo compito serve ovviamente come dire la giusta preparazione per affrontare questa emergenza sanitaria interna all'oasi sono certo che si sta facendo quanto è possibile fare i dipendenti dell'oasi sono in questo momento sulla prima linea del fronte perché ci sono circa 180 attisabili alcuni anche molto gravi che non possono essere lasciati da soli e quindi come dire sono a questi nostri eroi di questa emergenza vogliamo rivolgere un pensiero grato e commosso per il loro straordinario impegno e lo spirito di abnegazione che stanno mettendo in campo in questi giorni cambiamo argomento la Corte d'Appello di Catania ha disposto il dissequestro di tutti i beni di Mario Ciancio Sanfilippo che era stato disposto dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale tra le motivazioni dei giudici di secondo grado anche la mancanza di pericolosità sociale dell'editore e imprenditore tra i beni dissequestrati anche le società che controllano i quotidiani la Sicilia e la Gazzetta del Mezzogiorno e le emittenti televisivi Antenna Sicilia e Telecolor secondo la Corte d'Appello di Catania il decreto impugnato va conseguentemente annullato perché scrivono i giudici non può ritenersi provata l'esistenza di alcun attivo e consapevole contributo arrecato da Ciancio Sanfilippo in favore di Cosa Nostra Catanese e adesso ci fermiamo per qualche minuto la nostra informazione tornerà tra poco Energreen Power è un'azienda specializzata in energie rinnovabili grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo Energreen Power è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni adatte a qualsiasi esigenza realizzando impianti fotovoltaici sia di grandi che di piccole dimensioni il nostro team di operatori specializzati garantisce un'assistenza completa e costante durante tutte le fasi di esecuzione dell'opera dall'ideazione dell'impianto alla richiesta delle autorizzazioni necessarie dall'installazione all'assistenza post vendita fino alla manutenzione affidati a personale esperto scegli Energreen Power da Energreen Power offerta di primavera per i primi 20 contratti chiusi entro il 31 marzo 2019 impianto da 3 kilowatt chiave in mano a 3.000 euro più IVA 10% per un totale chiave in mano tutto incluso di 3.300 euro visto il successo avuto con la promozione dei 3 kilowatt l'azienda ha deciso di estendere l'offerta proponendo in alternativa un impianto da 6 kilowatt a 6.000 euro più IVA 10% per un totale di 6.600 euro per installazioni standard per info e sopralluoghi chiamare allo 095 85 74 77 oppure al 340 33 57 408 Energreen Power contrada a tre fontane paternò visita il nostro sito internet www.energreenpower.it ed eccoci nuovamente in studio con la seconda parte del nostro telegiornale tra il dire e il fare c'è di mezzo il donare è di fondamentale importanza continuare questo atto di solidarietà per questo motivo abbiamo documentato nel rispetto delle regole tutta la fase di donazione seguendo uno dei nostri collaboratori che è anche un donatore e socio del gruppo Donatore Volontari di Sangue vi mostriamo il nostro servizio e vi lanciamo un nuovo hashtag esco di casa solo per donare abbiamo invitato tutti ad andare a donare e quindi ci tocca fare questo gesto per una questione di coerenza siamo all'ingresso del centro trasfusionale non posso inquadrare l'equip medica infermieristica però non la vieti che appunto possa dare la mia testimonianza per quello che è importante e giusto fare siamo all'ingresso mi hanno appena preso i valori che riguardano la temperatura mi hanno invitato ad igienizzarmi le mani con il disinfettante come potete vedere e adesso ci avviamo verso l'ingresso per fare tutti quelli che sono i moduli abituali del donatore stiamo misurando la pressione vi ricordo che tutto avviene nella massima attenzione di quelli che sono i protocolli da adottare in una situazione del genere come quella che stiamo vivendo quindi il personale sanitario mantiene comunque sia le giuste distanze come potete vedere adoperano sempre guanti ma questo a prescindere e adesso vedremo se è possibile effettuare la donazione subito dopo i primi controlli la pressione va bene adesso controlleremo l'emoglobina dopodiché andrò in un'altra stanza in cui il medico di turno farà tutta una serie di domande controllerà i valori che gli verranno portati e dopo finalmente potremo donare i livelli di emoglobina vanno bene quindi adesso ci trasferiamo dal medico e dopo via per la donazione le prime fialette di sangue saranno quelle che verranno usate per l'analisi durante il colloquio il medico ha stampato dei codici che verranno applicati sia alla sacca che alle fialette quindi per certificare che è lo stesso sangue che previene dallo stesso donatore e queste saranno proprio le prime provette che verranno utilizzate poi per poter analizzare il sangue l'ago sembra grosso ma vi assicuro che non fa male anche perché gli infermieri sono molto molto bravi quindi non abbiate paura dell'ago ecco stiamo vedendo le operazioni preliminari la parte del lago la saltiamo per ovvi motivi non vogliamo buttare la sensibilità dei nostri dei nostri spettatori ecco qui le provette la possiamo fare vedere questa questa è una delle provette che verrà utilizzata per analizzare il mio sangue e vedere quindi che è un sangue sano che poi sono utilizzato per 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 la donazione nel frattempo mi viene data una pallina antistress come potete vedere che serve per per mettere meglio la il flusso del sangue appunto verso le provette e poi la sacca e allora abbiamo finito il processo di donazione quindi la sacca è pronta adesso si provvederà a liberarmi dal laccio emostatico e dal e dal lago abbiamo finito la nostra donazione la sacca del mio sangue è già in viaggio verso il laboratorio di analisi e come potete vedere questa è la medicazione di fine donazione e adesso possiamo toglierci la mascherina perché qui al centro trasfusionale i pazienti si coccolano giusto e quindi ci viene offerta una dolce colazione che possiamo consumare qui ecco qui io credo proprio che opterò per un tornetto e anche un un buon caffè quindi niente dopodiché si tornerà a casa e si resterà lì uscite solo per le necessità e per venire a donare e niente finita la donazione io torno a casa e resto a casa e questa mattina la nostra truppe si è recata presso il centro trasfusionale dell'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò ad attenderci il presidente del gruppo donatori volontari di sangue Filippo Castro per parlare di quanto sia importante continuare a donare ai nostri microfoni anche il dottor Salvo Platania primario del reparto che ci ha dato il suo importante parere tecnico sentiamo ci troviamo presso l'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò siamo in compagnia tenendo le dovute distanze del presidente del Gdvs Filippo Castro siamo qui per parlare delle donazioni un importantissimo servizio che la comunità offre ai cittadini che ne hanno bisogno presidente tempo di coronavirus eppure è ancora forse ancora di più importante continuare a donare esatto hai detto bene giusto in questo periodo stiamo stessando un momento oserei dire tragico per certi punti di vista noi i donatori non ci fermiamo non ci fermiamo perché purtroppo le malattie che hanno bisogno di questa terapia cioè del sangue non si fermano e quindi noi abbiamo il dovere civico di aiutare le persone che ne hanno di bisogno perciò anzi stiamo cercando di intensificare le donazioni sensibilizzando l'opinione pubblica a venire presso il servizio trasfusionale di modo che possiamo come dire abbiamo una scorta maggiore delle sacche che servono che secondo me vista la considerazione che c'è al nord dovremmo anche dare una mano là sopra perché veramente là sopra dalle notizie che abbiamo c'è una criticità molto molto alta Presidente ovviamente invitiamo i donatori abituali a continuare a venire a donare anche in questo periodo ma chi volesse avvicinarsi per la prima volta chi non ha mai donato cosa deve fare? Sì senza dubbio i donatori abituali possono recarsi tranquillamente alla scadenza dei tempi previsti dalla legge presso il servizio trasfusionale fare il proprio gesto di grande umanità e senso civico che per chi si volesse avvicinare per la prima volta a questo gesto di infinito valore basta recarsi sempre presso il servizio trasfusionale di Padernò dove faranno la pre-donazione non è altro che un piccolo prelievo di sangue per fare le analisi preliminari affinché si possa poi giudicare il donatore ed essere se gli esami sono nella norma viene avviato alla donazione di sangue mi preme dire che il servizio trasfusionale lavora nella sicurezza assoluta e totale con tutte le precauzioni che lo Stato ci ha dettato e quindi vi assicuro che siamo ligi a queste disposizioni che ci hanno imbattito sia il Ministro della Sanità sia la Regione quindi a vario livello come dire noi siamo ci atteniamo screpulosamente a queste disposizioni intanto buongiorno e grazie per averci dato questa opportunità al centro trasfusionale di Padernò e di Cattaglione a tutta l'azienda perché è importante in questi giorni come ha detto lei appunto di emergenza di coronavirus di questo nemico invisibile come appunto viene definito ormai dai media perché è appunto patologia virale darci la possibilità di dire prima di tutto che le misure che abbiamo adottato con il supporto e con l'attenzione della direzione strategica sono misure coerenti con le linee del centro nazionale sangue che offrono sicuramente garantia di sicurezza per tutti i soggetti coinvolti nel processo nazionale prima fra tutti i donatori che sono nostra fonte primaria di emocomponenti e la sicurezza anche per gli operatori sanitari che hanno a che fare appunto con i donatori e anche i pazienti quindi dal punto di vista di rischio non possiamo parlare di rischio perché i donatori vengono sottoposti a due momenti di triage un primo momento è telefonico quando l'associazione in questo caso appunto a Paternò il gruppo donatori che ringrazio per la presenza e per l'attività che sta svolgendo fa un triage telefonico sempre sotto la comunicazione del CMS che ha dato un algoritmo da sottoporre al donatore con delle domande ben precise quale ad esempio se ci fosse fosse difficoltà respiratoria l'aumento della temperatura in questo caso si suggerisce il donatore di andare di rivolgersi al medico al medico procurante o al centro codice per fare tutta la procedura di valutazione di possibili infezioni della Covid successivamente a questa prima fase di triage il donatore che si presenta a noi questo è importante perché così le donazioni sono programmate e permette di avere un numero adeguato di persone che vanno a donare che possano rispettare le norme di distanza di sicurezza gestite garantite per quello che può essere appunto l'ambiente giusto ed in chiusura parliamo di cronaca nera i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò hanno denunciato due minori per violazione dell'articolo 650 e per guida senza patente i militari impegnati nei controlli per l'osservanza delle disposizioni governative hanno imposto l'alt ad un furgone il controllo del veicolo con grande stupore ha svelato ai militari che il guidatore fosse minorenne così come l'amico e che insieme avessero deciso di usare il furgone del nonno per combattere la noia della quarantena a Motta Sant'Anastasia una ex badante ha chiesto aiuto alla sorella e al cognato per estorcere del denaro al nipote della signora per la quale aveva lavorato sentiamo i dettagli su disposizione su disposizione della procura della repubblica di catania i carabinieri della stazione di Motta Sant'Anastasia hanno arrestato Salvatore Alonso di 49 anni e le sorelle Santine e Maria Marraro rispettivamente di 33 e 46 anni in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP del tribunale etneo per il reato di estorsione in concorso commesso ai danni di un 56enne del luogo così come è ricostruito la vittima nonostante l'ex badante della propria zia non autosufficiente avesse alcuni mesi prima interrotto in modo improvviso il rapporto lavorativo per motivi personali aveva ricevuto sempre dall'ex badante una particolare richiesta ovvero la tredicesima mensilità equivalente a 600 euro per costringere il nipote dell'anziana donna a pagare il 56enne sarebbe stato minacciato di morte e denunciato ai servizi sociali del comune per il presunto abbandono della zia bisognosa di cure la vittima avrebbe così deciso di denunciare la vicenda ai carabinieri con il loro aiuto quando i due fidanzati si sono presentati in casa per ritirare i soldi per loro sono scattate le manette per i due estortori inoltre è stato disposto il divieto di avvicinamento alla vittima nonostante questo però si sarebbero in seguito recati dal 56enne dopo averlo picchiato per strada lo avrebbero trascinato con forza nell'abitazione delle due donne una volta all'interno Maria Marraro avrebbe continuato con le minacce ribadendo ancora la pretesa dei 600 euro nel frattempo con l'intento di incastrarlo Santina Marraro avrebbe chiamato il 112 chiedendone l'intervento asserendo che il 56enne le stesse picchiando i militari intervenuti avrebbero trovato la vittima inginocchiata per terra sporca di sangue con ecchimosi sulla schiena e sotto il controllo fisico del 49enne Salvatore Alonso il quale invece non presentava nessun segno di aggressione così come riportato dai medici del pronto soccorso il 49enne è stato condotto presso il carcere catanese di Piazza Lanza mentre le due donne sono state poste agli arresti domiciliari con questo servizio si conclude l'edizione di questa sera del nostro telegiornale come sempre per tutti gli aggiornamenti vi do appuntamento all'edizione di domani alle ore 13.30 a tutti voi una buona serata a tutti